I giovani Udc sono pronti per le elezioni federali. Vogliamo proteggere ciò che c'è più caro, vale a dire i nostri valori, le nostre tradizioni, le nostre famiglie, la nostra sovranità e la nostra indipendenza. Se anche tu condividi questo pensiero, diventa membro dei giovani Udc e aiutaci a difendere il nostro futuro.